Onorevole Maran, Frattini e La Russa hanno riferito nelle commissioni, cosa farà il Partito Democratico? Ha chiesto una verifica parlamentare, ci sarà una mozione? Noi abbiamo chiesto di discutere, perché intanto prendiamo atto che si fa strada la convinzione che l'interesse dell'Italia, del nostro paese, si difenda meglio all'interno delle istituzioni sovranazionali, a cominciare dalla Nato, che non cercando soluzioni per conto proprio, come sembrava all'inizio che il governo volesse fare. Rimane però un enorme problema, che è quello che nessun governo al mondo, nessun premier al mondo parla ogni giorno e in modo così diverso su una questione così importante. La Lega è ostile fin dall'inizio all'intervento, il punto è che però fa parte di un governo interventista, le due cose non stanno insieme. Proprio per questo noi abbiamo chiesto che il Parlamento discuta, non per dividere, ma per unire l'Italia su una questione così importante. Lei ha messo un po' il dito nella piaga per quello che riguarda la maggioranza, cioè la Lega, oggi si è stata una telefonata addirittura di Bassi a Napolitano, poco fa Reguzione ha detto che non c'è nessun problema, in qualche maniera sembra che vogliono far rientrare questa grossa spaccatura che c'è all'interno della maggioranza, proprio sulla Ligua, sulle questioni dell'immigrazione. La Lega in realtà sta agitando una questione di politica interna, non di politica estera. Cioè utilizza una questione che colpisce la sensibilità di molti italiani, oltretutto anche il malcontento di una parte ampia del centro-destra, per poter lucrare un risultato in vista delle elezioni che si interranno tra qualche settimana. Ma è questa la cosa grave, l'Italia ha molto da perdere, la posta in gioco in Libia e nel futuro della Libia è molto importante per l'Italia, sono in gioco interessi economici, la nostra sicurezza, i nostri valori, per questo non è possibile che questa questione sia utilizzata per la cucina interna. Per questo noi vorremmo sollecitare il Parlamento ad unirsi per affrontare una sfida così importante e non ad utilizzare la sfida per fare i fatti propri. Cosa farà il Governo secondo lei? Verrà in aula proprio per un voto, insomma, in qualche maniera? Come si muoveranno poi le opposizioni? La cosa verosimile, ma anche la cosa grave, è che faranno finta di nulla, continueranno così. Il Governo di fatto negli atti formali alla fine otterrà un ampio consenso, come ha avuto dal Parlamento per muoversi su una linea politica che poi la tradizionale linea politica del rapporto con l'Unione, del rapporto con la Nato, insomma, Euroatlantica. E dopodiché nella dimensione interna lasceranno le porte aperte ai malumori, all'occhiolino a quanti hanno invece in animo una politica anti-europea, quanti marcano la distanza dall'intervento della comunità internazionale. Insomma, come al solito cercheranno di cavalcare e di fare tutte le parti in commedia. Questo però l'aspetto più grave, perché è evidente che così facendo l'Italia non conta niente, come ha detto oggi il Ministro Bossi, non conta nulla, perché non è affidabile, perché rischia di prenderle da tutte le parti. Dopo aver abbandonato per ultimi Gheddafi, noi oggi possiamo sperare soltanto sulla benevolenza del nuovo futuro Governo di Bengasi. Nella dimensione internazionale, cioè dove si decidono le politiche, la nostra possibilità di influenzarle e di modificarle anche a nostro vantaggio e ai minimi livelli, questo è il prezzo che si paga a questo teatrino. Ed è questo che noi vorremmo far finire. Il Governo rischia di cadere sulla Libia? No, figurarsi. La politica estera appunto è lo spazio in cui il Governo pensa di poter non pagare il dazio, insomma, del teatro che continuamente cerca di allestire per... È un po' una vecchia storia, un vecchio diplomatico come Perisic parlava del complesso di Calimero, un atteggiamento vittimista che sta sempre lì a lamentarsi e che segna la nostra relazione complicata con la dimensione sovranazionale più importante che abbiamo, che è quella dell'Unione Europea. È stata estesa un po'. La comunità internazionale viene vista, è spesso dipinta, dal centro-destra come un problema, come il nemico. L'atteggiamento della Lega non è un atteggiamento pacifista, non ha niente a che vedere con i costruttori di pace, con chi immagina appunto la non-violenza come uno strumento per costruire un mondo più giusto, ma è il pacifismo che dona abbondio, lasciateci in pace, chiudiamo la porta perché dalle vicende internazionali possono arrivare soltanto guai, nell'illusione che appunto sia possibile chiudere questa porta. Così non è e noi quello che vogliamo affermare è che invece serve una politica estera lungimirante soltanto assieme ad altri noi possiamo ottenere di più di quanto si possa ottenere da soli. È una vecchietà del Movimento Operaio.